Le sigle sindacali FICISL, FLAICGL e Willa Will Umbria si sono riunite al circolo dipendenti perugina per l'approvazione dell'ipotesi di piattaforma per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro, industria e cooperazione alimentare 2023-2027. All'incontro sono intervenuti i tre segretari generali, Simone Dezzi, Daniele Marcaccioli e Luca Turcheria. Nel corso dei lavori sono stati eletti i delegati che andranno a rappresentare l'Umbria, nell'assemblea che si terrà a Roma il 30 e 31 maggio per licenziare la piattaforma unitaria per un settore che coinvolge a livello nazionale circa 464 mila lavoratori. In sintesi, FICISL, FLAICGL e Willa Will Umbria, prendendo in considerazione i cambiamenti reali nelle aziende, richiedono dal punto di vista economico un aumento di 300 euro medi totali sulla retribuzione, ma anche una riduzione di orario di lavoro a parità di condizioni. Grande momento di democrazia, ci apprestiamo a portare le nostre istanze a livello nazionale. Questo è un contratto fondamentale che riguarda migliaia di persone in Umbria, 450 mila persone in tutta Italia e quindi oggi usciremo da qui ancora più convinti e più consapevoli che dobbiamo andare al rinnovo del contratto recuperando e migliorando il salario per recuperare l'inflazione, ma soprattutto migliorare tutti gli aspetti normativi di un contratto nazionale che è importantissimo e che riguarda un quarto del PIL a livello nazionale. Crediamo che la partecipazione sia il primo aspetto fondamentale e oggi siamo pronti e carichi per andare a un rinnovo che porterà dignità a tutti i lavoratori dell'industria alimentare e della recuperazione alimentare.